Buongiorno edizione live delle 12 del TG News 24 ben ritrovati apriamo subito con una buona notizia perché dopo la notizia che dal 28 giugno ci libereremo delle mascherine nei luoghi all'aperto, facendo sempre attenzione, questo lo vogliamo ribadire in ogni occasione, arriva un'altra buona notizia in previsione perché dal 10 luglio potranno riaprire probabilmente le discoteche, lo ha detto questa mattina il sottosegretario alla Salute Costa e vediamo la pagina dell'agenzia ANSA nella quale vediamo il titolo, entro il 10 luglio riapriamo le discoteche, il sottosegretario alla Salute annuncia che entro i primi 10 giorni di luglio le discoteche potranno aprire e può essere applicato il criterio del Green Pass, la data sarà comunicata in settimana, dunque pian piano ci avviciniamo a tutta una serie di provvedimenti che ci avvicinano alla normalità, qui abbiamo anche alcune dichiarazioni del Ministro Speranza che parla di una battaglia incompiuta, quella contro il Covid, fino a quando ci saranno ancora dei morti, quindi fino a quando il dato dei morti non arriverà a zero, come abbiamo auspicato più volte naturalmente, come tutti auspicano, la battaglia sarà una battaglia ancora incompiuta e continuiamo il nostro telegiornale adesso parlando della variante Delta, una variante che sta preoccupando soprattutto il Regno Unito dove si sta diffondendo e sta aumentando i contagi velocemente con conseguenze però che rimangono sotto controllo per quanto riguarda la salute di chi poi manifesta i sintomi, non si reca più in ospedale o meno persone si recano in ospedale e per mani basso il numero delle vittime da Covid-19, sono tutti dati questi che servono anche a capire a ipotizzare quello che può succedere ad altri paesi, fermo restando che bisogna tenere molto alta la guardia per evitare che questa variante faccia ripartire i contagi in maniera veloce e con numeri che poi inevitabilmente potrebbero creare delle difficoltà, non è questo il caso dell'Italia, Italia che tuttavia è al quinto posto nel mondo come percentuale di positivi per i quali il sequenziamento ha individuato la variante Delta, cioè la variante indiana vediamo il servizio l'Italia è quinta al mondo per la percentuale di casi dovuti alla variante Delta il 26% secondo le stime del Financial Times relative al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 16 giugno 2021 il 9% secondo le stime del Centro Change Biotecnologie Avanzate relative all'ultimo mese e che segnano un aumento rispetto al 3.4% che risulta dall'analisi relativa al periodo tra il 15 maggio e il 16 giugno in entrambi i casi la fonte è la banca dati internazionale Giseide nella quale tutti i paesi del mondo depositano le sequenze genetiche del virus SARS-CoV-2 che si debba andare a pescare i dati in questo mare di sequenze si deve purtroppo al fatto che ad eccezione della Gran Bretagna tutto il mondo sta raccogliendo poche sequenze del virus e non fa eccezione l'Italia. Qui il Ministero della Salute ha disposto una nuova indagine rapida per stimare la diffusione nel paese delle principali varianti del coronavirus a partire proprio dalla Delta e che prenderà in considerazione i campioni notificati il 22 giugno dai quali si otterranno le sequenze genetiche. Le stime indicano che Gran Bretagna e Portogallo sono i paesi ad avere la maggior concentrazione di variante Delta rispettivamente con il 98% e il 96%. Dicevamo del nostro paese che pur essendo interessato per il 26% dei positivi il cui sequenziamento ha dato il risponso cioè variante Delta il nostro paese mantiene i contagi sotto controllo. Sono molto bassi negli ultimi giorni ieri proprio più di 400 con le vittime che stanno per fortuna diminuendo anche se auspichiamo come diceva Speranza di arrivare allo zero prima possibile ci sono meno accessi nelle terapie intensive negli altri reparti degli ospedali per quanto riguarda i malati Covid. Tutto questo ha permesso al Comitato Tecnico Scientifico nonostante la situazione epidemiologica attuale di poter dire che dal 28 giugno l'Italia potrà togliere la mascherina nei luoghi all'aperto. Ci sono delle raccomandazioni alle quali bisognerà assolutamente fare attenzione e cioè nei luoghi all'aperto in cui ci sarà il rischio di assembramento la mascherina dovrà essere indossata così come nei luoghi al chiuso, nei negozi, nei centri commerciali sui mezzi pubblici però in generale la mascherina dal 28 giugno la si potrà togliere almeno all'aperto. Il servizio dell'agenzia ANSA Dal 28 giugno l'Italia dirà addio all'obbligo delle mascherine all'aperto Il via libera è arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico al termine della saluta convocata per discutere del quesito posto dal Ministero della Salute Quando l'Italia sarà completamente bianca, la sintesi della nota ci saranno le condizioni per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento Il Comitato raccomanda comunque l'uso delle mascherine sui mezzi pubblici e nei soggetti fragili così come negli ambienti sanitari e ospedalieri Il CTS trova la quadra dopo un confronto durato oltre due ore Sulla decisione ha influito anche la percentuale di vaccini somministrati in Italia Numeri costanti di somministrazioni che si spera rispettino il trend anche nel mese di luglio quando però si registrerà un calo degli arrivi di Pfizer In quest'ultimo mese infatti gli arrivi erano stati superiori all'attese a causa degli anticipi di alcuni carichi Parallelamente sul fronte europeo l'Unione Europea rassicura sulla base di questi dati e delle previsioni disponibili entro il mese prossimo potremmo raggiungere l'obiettivo di vaccinazione del 70% della popolazione adulta E adesso parliamo delle vaccinazioni Andiamo a vedere il numero dei vaccinati nel nostro paese Il livello è molto alto dal punto di vista del totale delle dosi che sono state somministrate Quasi 47 milioni, 46,601.425 Si arriverà presto a superare i 47 milioni le 47 milioni di dosi somministrate per meglio dire che equivalgono a poco più di 16 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale e poco meno del 30% della popolazione over 12, cioè quella vaccinabile ad aver completato il ciclo con doppia dose per quei vaccini che prevedevano e prevedono la doppia dose con dose singola per il vaccino Johnson & Johnson Proseguiamo invece con il dato delle vaccinazioni nelle regioni Vediamo a che punto siamo sia in Friuli Venezia Giulia che in Veneto Il Friuli Venezia Giulia ha una percentuale in questo momento al di sopra della media nazionale che dopo andremo a vedere, del 93,7% di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute C'è qualcuna che sta meglio, tipo le Mine Romagna, ma altre che sono un pelino indietro Tutto sommato però possiamo dire che le oscillazioni che variano giorno dopo giorno ci dicono che il paese sta davvero procedendo bene per la campagna vaccinale in atto Bisogna soltanto sperare che non ci siano cali nelle forniture da parte di Pfizer e Moderna in particolare in questo momento, visto che AstraZeneca e Johnson & Johnson sono alle prese con varie problematiche relative anche alla campagna di comunicazione errata che è stata fatta e che indubbiamente ha creato problemi a questi due vaccini Vediamo il dato del Veneto che è del 93% alto anche quello della regione a noi vicina e il dato nazionale ci dice anche che abbiamo superato i 50 milioni le 50.271.063, il numero preciso delle dosi che il governo e il commissario Figliuolo adesso, ancora prima il commissario Arcuri, hanno consegnato alle regioni per la campagna vaccinale la media nazionale come diciamo è del 92,7% con entrambe le regioni di nostra copertura Friuli Venezia Giulia e Veneto che hanno superato la media nazionale sono oltre il 93% e ancora per quanto riguarda le vaccinazioni si segnala un intervento della CGL Funzione Pubblica attraverso il suo segretario regionale Traunero sulla campagna grande impegno organizzativo ha detto il segretario ma ora serve uno sforzo comune per promuovere ulteriori adesioni fra gli operatori sanitari anche attraverso campagne mirate di sensibilizzazione il punto è quello di arrivare alla vaccinazione completa degli operatori del settore della sanità tutti a partire proprio dagli operatori sanitari siamo chiamati a fornire il nostro contributo per dare un'ultima decisiva spallata al virus e questo è l'appello lanciato dalla Funzione Pubblica CGL di Udine con il segretario provinciale nei confronti dei dipendenti dell'azienda sanitaria Friuli Centrale che sono circa 1.300 che al momento non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione se da un lato possiamo comprendere le preoccupazioni e la richiesta di approfondimenti clinici ci dichiara Traunero i dati sull'andamento dei contagi confermano come la somministrazione del vaccino sia la strada maestra per sconfiggere il Covid e le sue varianti riducendo drasticamente i contagi e gli effetti più gravi del virus vaccinarsi non serve soltanto ad alzare gli argi nelle difese contro il contagio ma da parte degli operatori anche un fondamentale segnale di fiducia nei confronti del servizio sanitario pubblico tutti cui sono una componente essenziale e adesso parliamo di cronaca la polizia di Trieste ha tratto in arresto un 52enne goriziano denunciato due persone a Napoli a Padova e sequestrato criptovalute e decine di migliaia di files di pornografia minorile questo è il bilancio dell'operazione Web Oscuro diretta dal sostituto procuratore della Repubblica di Trieste la dottoressa Maddalena Kergia è coordinata dal servizio polizia postale e delle comunicazioni il centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online da cui ha tratto in pulso iniziale l'indagine nell'ambito degli scambi internazionali di polizia la perquisizione seguita nei confronti dell'uomo che aveva accuratamente protetto i suoi account e dei suoi sistemi con tecniche di anonimizzazione consentiva di rinvenire più di 30.000 files pedopornografici con bambini e anche infanti raffigurati mentre venivano sottoposti a violenze e sevizie la successiva analisi dei dispositivi informatici è stata interamente condotta dagli investigatori della postale sono emesse 2.000 chat contenenti richieste di scambio di materiale pornografico nelle quali l'uomo proponeva altresì agli interlocutori nel dark web dei cataloghi raffiguranti minori che stando alle chat sarebbero stati disponibili per incontri sessuali dal vivo era stato inoltre rinvenuto un wallet per la gestione delle criptovalute dove confluivano i proventi della vendita del materiale multimediale raffigurante ai minori sono ancora in corso accertamente anche di carattere internazionale volte a riscontrare l'effettiva e reale disponibilità dei minori proposti nei cataloghi e a identificare gli altri interlocutori dell'arrestato sono stati infine denunciati due italiani residenti in provincia di Padova e Napoli che hanno scambiato messaggi con l'uomo finalizzati in un caso all'incontro con minori di anni 14 per scopi sessuali e nell'altro a ricevere materiale pedopornografico le perquisizioni a loro carico e seguite con la collaborazione della Polizia Postale di Venezia e di Napoli hanno consentito di sequestrare numerosi dispositivi informatici contenenti materiale pedopornografico oltre agli account utilizzati per le attività delittuose e invece adesso parliamo di migranti perché si parla di emergenza di nuovi arrivi quasi all'ordine del giorno dalla rotta balcanica ma c'è anche chi sostiene che non ci sia una vera e propria emergenza se si considera che il periodo estivo è da sempre quello in cui si concentrano il maggior numero di arrivi e che durante il periodo di piena pandemia le domande di asilo sono calate di oltre il 30% si può vedere come i dati degli arrivi nel primo semestre 2021 sono appena leggermente superiori a quelli del 2019 non c'è dunque nessuna situazione di emergenza in atto ma esclusivamente la necessità di aumentare la frequenza dei trasferimenti fuori regione tornando ai livelli 2019 in modo che non avvenga come in questi giorni che le strutture per la quarantena diventino sature è quanto affermi in una nota l'ICS Consorzio Italiano di solidarietà in merito agli arrivi di migranti nella nostra regione per l'ICS la campagna mediatica messa in atto dalla regione secondo la quale la situazione sarebbe ingestibile è totalmente falsa e copre il vuoto di un ente che da anni ha dismesso ogni funzione utile in questo campo la regione potrebbe dare il proprio supporto aiutando le associazioni e le prefetture del reperimento di posti anche temporanei e sostenere l'operato delle associazioni e delle forze di polizia con mediatori linguistici al posto di tutto ciò conclude la nota abbiamo invece il nulla se non una eterna lamentazione ed un costante incitamento alla ripresa di prassi illegali e di comportamenti sociali violenti insieme a un tentativo grottesco e moralmente riprorevole di additare uomini, donne e bambini stremati quali responsabili della diffusione del Covid mai si erano toccati nella storia di questo territorio a livelli così bassi questa è la nota con delle affermazioni molto dure nei confronti del governo regionale da parte del Consorzio Italiano di solidarietà e adesso ci spostiamo a Tarvisio dove questa mattina si è tenuta la presentazione del ritiro che il Pordenone Calcio effettuerà proprio a Tarvisio così come l'anno scorso erano presenti naturalmente il sindaco di Tarvisio e il presidente del Pordenone Calcio Mauro Loviso sono stati intervistati entrambi dalla nostra inviata Francesca Santoro è nato l'anno scorso col Pordenone Calcio un rapporto nuovo anche quest'anno e magari anche il prossimo anno Pordenone è una nuova piazza per noi come promozione turistica della nostra località pianti sportivi proprio adatti per squadre in ritiro quindi abbiamo queste vogliamo chiaramente sfruttare per implementare quella che è la nostra diciamo la nostra ospitalità sul nostro territorio siamo molto legati al territorio abbiamo fatto questa scelta perché crediamo che Tarvisio l'anno scorso ci ha raccolto veramente bene in un momento poi molto delicato e quindi un minimo di riconoscenza le strutture ci sono perché ripeto ci siamo inferiuli quindi vogliamo portare avanti i nostri colori come si svolgerà il ritiro? dal 12 al 28 al 29 adesso veniamo 16-17 giorni e quindi in questa bella località dobbiamo trovare un posto tranquillo faremo qualche giorno di più proprio perché abbiamo il mister nuovo e quindi di conseguenza abbiamo bisogno di lavorare questa è la dichiarazione del sindaco e di Mauro Lovisa alla presentazione del ritiro precampionato che il Pordenone svolgerà ancora una volta a Tarvisio adesso cambiamo argomento ma rimaniamo a Tarvisio perché Francesca Santoro ha intervistato anche l'albergatore nonché responsabile dell'ASCOM il responsabile dell'ASCOM Diego Bellotto sulla stagione turistica sentiamo siamo qui per parlare dell'avvio della stagione turistica come sta andando? diciamo che la stagione turistica è partita nel senso che abbiamo delle giornate in cui molti alberghi hanno parecchio lavoro altre giornate un po' meno naturalmente però c'è stata già una piccola ripartenza e questo è molto positivo che tipo di turismo c'è? allora noi abbiamo nel Tarvisiano lavoro con gli italiani sicuramente però stanno arrivando parecchi austriaci e tedeschi e questo insomma è incoraggiante si aspettano le ulteriori diminuzioni delle restrizioni anche dei nostri contermini e quindi in quel momento sicuramente avremo molto molto più lavoro tanti cicloturisti attirati dalla ciclovia alpeadria giusto? la ciclovia è sempre molto attrattiva è bellissima ed è naturale sì abbiamo parecchi anche qui austriaci e tedeschi qualche danese e italiani che si muovono lungo la ciclabile sì questo sì a livello di commercio com'è lo spirito? c'è entusiasmo per questa ripartenza i commercianti si sono attrezzati? allora i commercianti si sono attrezzati stiamo scendo in questi giorni con una campagna promozionale proprio del commercio riservata al commercio diciamo che c'è molto ottimismo c'è molta speranza dopo un periodo sicuramente molto molto nero qualche qualche turista ancora si vede si comincia a vedere e ripeto aspettiamo le ulteriori diminuzioni e sicuramente avremo il nostro lavoro parliamo invece dell'incontro che si è tenuto ieri presso l'università di Udine tra i vertici di Confindustria e l'università per parlare dei laboratori da mettere a disposizione della formazione quindi un incontro tra università e imprese sentiamo il presidente della regione Massimiliano Federica una battuta rilasciata nel suo intervento intanto è importante proprio questo cioè trovare quel punto di contatto e di unione tra ricerca e imprese questo è fondamentale per fare quel passo avanti di cui abbiamo necessità cioè favorire la ricerca applicata noi siamo molto forti in ricerca di base come sistema regionale dobbiamo favorire la ricerca applicata perché questa ricerca di base che è in grado di guardare in prospettiva però si traduca anche nell'immediato nella possibilità di creare occupazione nuova impresa quindi spazio alle imprese spazio anche alla formazione dunque con i laboratori l'intesa fra imprese e università per mettere anche a confronto per far avvicinare la domanda di occupazione post laurea per esempio la domanda di formazione durante i corsi di laurea e le imprese del territorio adesso ancora cronaca torniamo alla cronaca per parlare invece di un rinvenimento di un ordigno bellico molto pericoloso che la polizia di stato ieri mattina ha effettuato a Trieste dove durante i lavori in un terreno agricolo in località Medeazza un uomo ha rinvenuto un ordigno e ha prontamente telefonato al 112 sul posto si è recato una volante del commissariato di Duino Aurisina e ha messo in sicurezza l'aria e ha richiesto l'intervento del nucleo regionale artificieri antisabotaggio della polizia di stato gli specialisti lo hanno rimosso con estrema cautela visto che l'ordigno un proiettile di mortaio calibro 75 mm della prima guerra mondiale si presentava integro e completo di spoletta una volta prelevato e portato altrove dagli artificieri il proiettile è stato fatto brillare adesso apriamo la pagina sportiva lo facciamo dando un'occhiata intanto alla situazione dei vari gironi dell'europeo il B e il C hanno completato le tre partite ci sono quindi i verdetti l'Italia affronterà l'Austria nella gara degli ottavi di finale prevista per il 26 di giugno a Wembley a Londra andiamo a vedere i risultati di ieri che hanno concluso i gruppi C e B con l'Olanda che ha battuto la Macedonia per 3 a 0 e con l'Austria che ha superato l'Ucraina per 1 a 0 la Danimarca grazie al 4 a 1 contro la Russia pur avendo conquistato soli 3 punti una vittoria e due sconfitte nelle partite di questo girone è riuscita con la differenza reti a guadagnare l'accesso ai ottavi di finale mentre il Belgio l'aveva già ottenuto l'accesso ma ha fatto il suo dovere fino in fondo battendo la Finlandia per 2 a 0 quindi Belgio in testa al gruppo con 9 punti in 3 partite quindi a punteggio pieno questa è la situazione del gruppo B Belgio 9 poi Danimarca Finlandia Russia 3 passa la Danimarca per la miglior differenza reti e va direttamente agli ottavi di finale le altre squadre che sono già che hanno già avuto accesso agli ottavi dopo i match di ieri sono la Francia la Svizzera e la Svezia già qualificate anche Repubblica Ceca e Inghilterra e sarà invece uno spareggio quello di oggi fra Croazia e Scozia alle 21 quindi partire interessante fra Croazia e Scozia che ci dirà chi andrà avanti e chi invece dovrà fermarsi qui queste le partite previste per oggi Repubblica Ceca Inghilterra e Croazia-Scozia entrambe partite del gruppo D ed entrambe che si giocheranno alle ore 21 parliamo di Udinese andiamo a collegarci con la Dacia Arena dove c'è Lorenzo Pausa per le ultime in casa bianconera a te Lorenzo eccoci Francesco una buona giornata a te e a tutti i nostri telespettatori incominciamo facendo una panoramica dei bianconeri in nazionale perché la serata e la notata di ieri hanno riservato ancora degli impegni sia per quanto riguarda gli argentini sia per quanto riguarda invece la Danimarca di Struger Larsen partiamo con l'Argentina che ha visto in campo dal primo all'ultimo minuto Nahuel Molina seconda presenza consecutiva da titolare per l'esterno classe 98 nella gara di Coppa America vinta dall'Albi Celeste per 1-0 contro il Paraguay in gol è andato Alejandro Gomez al decimo del primo tempo che poi a metà della ripresa è stato sostituito da Rodrigo De Paul Guamusso invece assistito dalla panchina a questa importante vittoria della nazionale di Scaloni che va quindi a ipotecare il primo posto nel proprio girone Struger Larsen ha giocato invece gli ultimi 30 minuti nella partita degli europei vinta per 4-1 contro la Russia Danimarca quindi che si qualifica agli ottavi di finale dove sabato 26 giugno andrà ad affrontare il Galles grande soddisfazione soprattutto per Nahuel Molina che dopo essere diventato un titolare fisso del Udinese sta diventando un punto di riferimento importante anche per la propria nazionale questa esperienza sicuramente lo porterà a ritornare in Friuli galvanizzato e voglioso di fare ancora una grande stagione in Bianconero stagione che comincerà a tutti gli effetti il 5 di luglio con il raduno qua a Udine quindi siamo entrati a tutti gli effetti nella penultima settimana di vacanza per il gruppo di Luca Gotti gruppo nel quale incominciano ad esserci i primi movimenti di mercato si continua a parlare in questi giorni di Pedro Pereira e di Maxi Romero che sono dati in dirittura d'arrivo si parla invece di De Pole in uscita all'Atletico Madrid ma per tutte queste operazioni manca ancora l'ufficialità il mercato è ancora lungo una finestra anche sul basket perché questa sera alle 20.45 torna in campo l'Apu Old Well West Udine per la gara 2 della finale per la promozione in Serie A sempre al palabarbuto di Napoli contro la Gevi Napoli che ha vinto il primo confronto per 72 a 56 mostrando una netta superiorità nei confronti dei ragazzi di Boniccioli che però tentano ora di voltare pagina per riportare in pari la serie e di proseguire quindi in questo sogno promozione che andrebbe a rappresentare il punto più alto della giovane storia della compagine del presidente Alessandro Pedone noi seguiremo la partita con un'edizione speciale di basket a nord-est a partire dalle 21.45 quindi a partire dall'inizio della ripresa prima di restituirti la linea Francesco un passaggio anche su Udinese Tonight andate in onda ieri sera abbiamo avuto come ospite Antonio Floro Flores abbiamo parlato un po' a 360 gradi dell'Udinese anche della situazione attuale di mercato tiene banco come dicevamo la partenza di Rodrigo De Paul dato ormai per vicinissimo all'Atletico Madrid e bisogna pensare quindi a quello che sarà il futuro del centrocampo bianconero Floro Flores ha detto sicuramente la società avrà pensato a come sostituire degnamente le dieze bianconero facendo anche riferimento al fatto che nella storia del club si sono sempre susseguiti elementi giunti a Udine da semi sconosciuti che poi sono effettivamente esplosi e lanciati proprio dall'Udinese verso l'Olimpo del calcio ascoltiamo allora Floro Flores e poi Francesco a te la linea io credo di sì credo di sì sia per il bene del ragazzo che per il bene dell'Udinese comunque l'ha valorizzato negli anni ha fatto conoscere il calcio italiano che è uno dei più difficili l'ha portato sul tetto d'Europa e adesso nel mondo perché comunque in Argentina sta facendo molto bene vedendo le partite credo che sia il momento opportuno che il giocatore magari fa il salto di qualità l'Udinese in questa credo che sia una delle squadre migliori perché negli anni all'Udinese arrivavano giocatori che per i primi tre mesi dicevano ma com'è possibile che questo possa giocare a calcio alla lunga ti sto parlando di Samuel Aperera sono giocatori che hanno fatto la storia dell'Udinese e non solo hanno vinto anche nelle squadre come Juve e altre parti ripeto l'Udinese in questa è qualcosa di straordinario che in tutti i posti dove sono stato non ho mai visto cioè forse Sassuolo ripeto ma oggi penso che De Paul è pronto per fare il salto di qualità è l'anno perfetto l'Udinese lo sa perché in questo sono grandiosi e lasciano sempre magari come dire al momento giusto il giocatore se arrivano quello che vogliono loro come è giusto che sia perché lo prendono da nulla e lo valorizzano ed è giusto che comunque si facciano pagare ripeto però in questo credo che io penso che già abbiano sostituto sicuramente senza nessun dubbio e adesso invece vi lascio alle previsioni meteo oggi il tempo è bello andiamo però a farcelo confermare da 3B Meteo e vi do appuntamento alle 16 con la prossima edizione del telegiornale arrivederci un saluto agli amici di Udinese TV da Fabio Dalio di 3B Meteo nella giornata di martedì il tempo continuerà a essere bello sul Friuli Venezia Giulia grazie all'alta pressione nordafricana seppur piuttosto caldo un caldo intenso a tratti affoso specie nei grossi centri urbani e lungo le coste il clima comunque sarà asciutto in montagna un po' su tutta la regione vediamo nel dettaglio la situazione sul Friuli che sarà appunto stabile ampiamente soleggiata con solo qualche annovolamento di passaggio ma clima asciutto anche sul comparto carnico e temperature che raggiungeranno i 32-34 gradi in pianura quindi molto elevate con AFA specie durante le ore serali e minime che non andranno sotto i 20 gradi per quanto riguarda la Venezia Giulia anche qui situazione stazionaria con cieli sereni poco nuvolosi a tratti velati con temperature che sulla costa non andranno sopra i 32 gradi ma qui con elevati tassi di umidità che quindi accentueranno la sensazione di disagio fisico valori un po' più alti verso Gorizia attorno ai 32-33 gradi ma per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trabi Meteo grazie a tutti i dettagli grazie a tutti i dettagli grazie a tutti i dettagli